Sofia Canovaro, studentessa dell'Istituto Statale di Istruzione Forese di Porto Ferraio Livorno, è la nuova Presidente del Parlamento degli Studenti della Regione Toscana. La seduta di insediamento, tenutasi il 24 novembre nell'Aula Consigliare di Palazzo del Pegaso, è avvenuta dopo la votazione che ha visto la giovane studentessa livornese eletta al secondo turno, con 36 voti, dopo il ballottaggio con Giulia Paolercio del Cicognini di Prato. Ad aprire la seduta, il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Masseo. Presente anche la Presidente uscente, Maria Vittoria D'Annunzio. Intanto permettetemi di fare un grande in bocca al lupo a Sofia, un in bocca al lupo chiedendole di fare in modo che quel luogo sia sempre un luogo aperto, un luogo di confronto, un luogo di ascolto, un luogo in cui vengano fuori le diversità. Durante il mio intervento in aula ho chiesto alle ragazze e ai ragazzi di non essere mai indifferenti, di non voltarsi mai dall'altra parte, di ascoltare sempre le posizioni che sembrano più lontane da noi, perché in ogni intervento ci si può trovare qualcosa di importante che può migliorarci e può migliorare la Toscana del futuro. Il Parlamento degli studenti per me è un luogo importante all'interno della democrazia della nostra regione, è un luogo con cui si può leggere il mondo dagli occhi di una generazione nuova. A loro il compito di scrivere la Toscana del domani, ma anche di darci consigli, suggerimenti su quello che sta accadendo oggi. In questi anni ho avuto la possibilità di incontrare tante studentesse e tanti studenti. Consentitemi di ringraziare anche la past president, Maria Vittoria, per il lavoro importante che ha portato avanti in questi anni. Davvero in quel luogo c'è la bellezza della nostra regione. Allora un grande in bocca al lupo, un buon inizio, un buon cammino. Sono molto contenta della legislatura che abbiamo iniziato quest'anno, ho visto dei nuovi parlamentari molto attivi, sono sicura che verranno fuori tanti grandi progetti, perché alla fine il ruolo del Parlamento deve essere un ruolo attivo, una realtà attiva all'interno della vita scolastica di 160.000 studenti degli istituti secondari di secondo grado che ci sono in Toscana. Quindi speriamo di realizzare tanti progetti, magari delle proposte di legge, degli eventi che riescano a rappresentare appieno e a riflettere quei valori che sono cari agli studenti che noi rappresentiamo. In questo seminario di Montecatini, quindi di formazione, abbiamo parlato molto del tema della violenza, che era appunto il tema principale. Siamo andati sul tema della violenza verbale, quindi con un professore di linguistica che ci ha spiegato cosa sono gli hate speech, come si può contrastare questo tipo di violenza anche sui social, e poi abbiamo parlato molto anche della violenza di genere, soprattutto dopo i casi che ci sono stati ultimamente, dei femminicidi in Italia che sono parecchio aumentati e sono un grave problema che affligge questo paese e il mondo intero, direi. L'esperienza fatta nell'ultima legislatura è stata unica nel suo genere, è stato proprio un indirizzamento di vita, una bellissima palestra di democrazia e dialogo. Non posso che essere soddisfatta del nostro operato e soprattutto soddisfatta della nuova presidente, Sofia Canovaro, della quale provo un grande affetto, soprattutto consapevole del lavoro che ha svolto negli ultimi anni insieme a me. Prosegue il viaggio nei capoluoghi della Toscana del Corecom Tour, l'iniziativa dell'autorità regionale di garanzia per le telecomunicazioni, volta a far conoscere e rendere consapevoli dei propri diritti in relazione al mondo della comunicazione, enti locali, cittadini, imprese e associazioni. Dopo Prato e Pistoia il tour ha fatto tappa a Livorno. L'incontro si è tenuto nella sala consigliare della provincia e le attività del Corecom sono state illustrate dal presidente Marco Meacci e la consigliera Carlotta Agostini. È la prima volta che il Corecom della regione toscana fa un vero e proprio tour nei territori, in tutta la Toscana, in tutte le città a capoluogo. Abbiamo iniziato da Prato, poi Pistoia, oggi siamo a Livorno e continueremo in tutte le realtà provinciali. Ci sembra doveroso e importante far conoscere le funzioni del Corecom della regione toscana, le attività di vigilanza, di controllo sul sistema radio televisivo, ma anche le tante attività che vengono svolte. Penso per esempio a tutto il lavoro che viene fatto nelle scuole medie con il patentino digitale, per dare le competenze digitali ai ragazzi, in modo da navigare in modo più sicuro, più responsabile, più appropriato con questi strumenti. E poi per tanti altri servizi, penso per esempio al grande lavoro che il Corecom svolge di conciliazione tra le utenze, i gestori delle compagnie telefoniche e delle telecomunicazioni. È una conciliazione a titolo gratuito che noi svolgiamo e che appunto corrisponde a una grande necessità di tante persone, di tante famiglie, di tante imprese, che spesso sono sole in questa giungla, tra virgolette, che hanno bisogno appunto di elementi di conciliazione e di sostegno e di aiuto. E poi abbiamo tante attività che volgono anche, mirano a svolgere attività di promozione delle buone pratiche di comunicazione, in modo da valorizzare il patrimonio di informazione, di giornalismo, di comunicazione in senso complessivo che la Toscale esprime. Per esempio, il progetto del patentino digitale va proprio in questa direzione. E noi quest'anno abbiamo organizzato il primo patentino dei, che abbiamo chiamato così, che sarà il 4 dicembre all'Istituto degli Innocenti, dove faremo una sorta di restituzione pubblica di tutto il lavoro che svolgiamo insieme alle scuole della Toscana su un tema così cruciale, che riguarda le nuove generazioni, ma che chiaramente poi coinvolge le famiglie e gli insegnanti di tutta la Toscana. Dal nostro punto di vista, sicuramente sarà importante, come stiamo facendo, portare avanti l'idea del patentino digitale, perché anche quello che dimostrano i fatti quotidiani c'è sempre più bisogno di essere preparati, soprattutto per i nostri giovani, per stare sui social, per sapere quello che affrontano stando sui social e quindi per imparare che sì, quella è realtà, ma che ci vogliono i mezzi per saperla gestire. I nostri uffici di Firenze, in Via Cavour, sono comunque sempre aperti per tutti, perché sappiamo che non tutti hanno la facilità di poter fruire dei mezzi digitali, pensiamo alle persone un po' più anziane, e quindi l'ufficio di Firenze, in Via Cavour, è comunque sempre aperto per aiutare chi ha bisogno del Corecom. Per quanto riguarda le telecomunicazioni, noi abbiamo sempre un lavoro costante di controllo, ovviamente, e abbiamo idea anche di, anche questo Corecom Tour, proprio per farci conoscere maggiormente, perché comunque è un organismo molto importante, ma ahimè ancora un po' sottovalutato, e invece siccome appunto è un comitato che ha strettamente a che fare con le comunicazioni, c'è bisogno che venga conosciuto, proprio per sapere che c'è qualcuno, che c'è un organismo regionale, che in qualche modo controlla, ma in qualche modo è anche disposto a capire quali sono i problemi e dove dobbiamo intervenire. Presente è anche la Presidente della Provincia di Livorno, Sandra Scarpellini. È un'iniziativa che va a vantaggio dei cittadini, esattamente passando per le istituzioni, quindi facendo conoscere tramite le istituzioni il ruolo, la funzione di alcuni organismi, che altrimenti rischiano di essere individuati come carrozzoni addirittura, o comunque come soggetti, diciamo, non conosciuti nella loro reale efficacia. Ecco, il Corecom è un organismo importante perché aiuta, diciamo, ai cittadini ad esercitare principi democratici, quindi vigila sulla corretta tenuta di tutta una serie di attività che sono legate all'informazione e alla comunicazione istituzionale innanzitutto. Quindi questo permette di, diciamo, di star dietro a quella filiera molto complessa, molto, molto complessa, penso che sia una grande sfida, questa per il Corecom stesso, della costruzione, appunto, della corretta informazione, dei processi democratici legati comunque alle comunicazioni, all'informazione in certi momenti della vita particolari, come quelli delle elezioni, momenti quindi in cui si richiede un'attenta e oculata partecipazione di ogni componente della vita democratica ai momenti dell'informazione, quindi attiene all'attenzione alle emittenti televisive, attiene però anche a tutta un'altra serie di partite che sono legate alla transizione, che quindi sono tutto ciò che attiene al digitale. C'è stato già raccontato che vi sarà addirittura un patentino dei, quindi una giornata dedicata insieme alla Regione alla costruzione di una sorta di patentino digitale che possa permettere di gestire in maniera attenta e di non subire quindi il mare magnum che attraverso il digitale passa di informazione e di comunicazione che però sappiamo benissimo deve essere regolato e normato perché contribuisca a dare ai cittadini una reale conoscenza democratica delle informazioni e quindi un esercizio reale poi della propria cittadinanza. Quindi complimenti all'iniziativa, all'idea del tour, alla Regione che peraltro ha approvato ieri in consiglio il programma per il 2024 di attività del Coricon stesso e la provincia è a disposizione da oggi, come sempre, ma insomma segna oggi con questo passaggio del tour una disponibilità totale ad essere anche soggetto poi di dipanamento delle informazioni agli altri stakeholder del territorio. Offline video sulle dipendenze digitali vince la decima edizione del concorso Toscana in Spot promosso dal Comitato regionale per le comunicazioni. Il video, realizzato da Chiara Rossi, 21enne di Cortona, è stato premiato a Palazzo del Pegaso. Presenti il presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo e il presidente del Coricon Toscana Marco Meacci. Consentitemi prima di tutto di ringraziare il Coricon. Svolge un lavoro importante, un lavoro prezioso. Questa iniziativa che manda e vuole mandare un messaggio forte evitiamo di diventare dipendenti dalle nuove tecnologie, indipendenze digitali viste con gli occhi delle ragazze e dei ragazzi più giovani. Questo messaggio è un messaggio forte che vuole mandare tutta l'Assemblea legislativa. Le tecnologie sono importanti, svolgono un luogo fondamentale nel cambiamento delle nostre comunità, ma vanno gestite, vanno guidate, vanno indirizzate. Spesso ognuno di noi non riesce a vedere da quanta bellezza è circondato perché passa il suo tempo con la testa china sul cellulare. Invece dobbiamo mandare un messaggio differente. Cercate di vivere prendendovi tutta la bellezza del mondo in grado di portarvi. Nella bellezza c'è anche la possibilità di navigare liberi e conoscere il mondo, ma non fatela diventare una dipendenza perché la linea di demarcazione è sottile e solo la cultura, una cultura che può partire dalle scuole, può insegnare e può indirizzare, specialmente i più giovani, ad andare in una direzione differente da quella che purtroppo si sta prendendo in questo tempo. È giunto quest'anno al decima edizione questo premio, questo riconoscimento di Toscana e Spot. È un momento importante perché appunto è una valorizzazione di un lavoro ormai decennale. anche quest'anno sono arrivati tanti video un po' da tutta la Toscana soprattutto di ragazzi e ragazzi che appunto si sono cimentati su questo argomento che avevamo messo in evidenza che era quello appunto delle indipendenze digitali. In questo senso per noi è un tema centrale per quanto riguarda il Corecom perché il tema di sensibilizzare le nuove generazioni non solo su questo tema e su questi strumenti su queste competenze è un elemento importante di valore e di mission generale del Corecom. Proprio in questa chiave andremo il 4 dicembre a organizzare il primo patentino DEI in Toscana all'Istituto degli Innocenti dove metteremo in rete metteremo insieme tutte le esperienze che abbiamo portato avanti nelle scuole media toscana proprio in questa chiave per rendere sempre più possibile un accesso una padronanza e un navigare in modo sereno sicuro e consapevole all'interno della rete e dei social. Mi chiamo Chiara Rossi vengo da Cortona e attualmente sto frequentando un corso di videomaking qui a Firenze e sono la vincitrice del concorso. Ho presentato uno spot che appunto riguarda il tema delle dipendenze indipendenze digitali e con appunto la mia attrice abbiamo realizzato questo spot dove lei praticamente si trova appunto tutti i giorni a casa che sta con il telefono e a un certo punto improvvisamente si ritrova in un luogo totalmente desolato e diciamo che appunto il messaggio è quello di guardarsi intorno ed evitare di stare sempre al telefono perché appunto poi dopo ci perdiamo quello che succede intorno a noi. Grazie a tutti